Buongiorno a tutti, buon pomeriggio amici di Le Fonti TV, eccoci pronti per seguire la Banca Centrale Europea, il nostro consueto appuntamento dedicato proprio alle decisioni di politica monetaria dell'Istituto di Francoforte, sempre ormai da mesi cruciali, fondamentali dopo la decisione ovviamente di rialzare i tassi di interesse a causa dell'inflazione, ma in questo caso è l'ultima riunione di questo 2022 e peraltro segue quella della Fed di ieri dove sapete insomma la Banca Centrale Americana ha deciso di rialzare i tassi di 50 punti basi, quindi decelerando leggermente rispetto alla velocità con la quale aveva deciso insomma di dare un impulso forte e appunto restrittivo alla politica monetaria, ma con Powell che ha avvertito che l'Iter sarà ancora importante e significativo, infatti arriviamo a noi a oggi perché dobbiamo capire cosa sta succedendo sul mercato, intanto le borse europee in attesa della Banca Centrale Europea sono in territorio negativo, i listini europei sono in territorio negativo, possiamo vedere a partire dal nostro indice il Futsimib che cede in questo momento l'1%, il CAC di Parigi l'1,15% e l'Ibex di Madrid, facciamo subito una panoramica, poi ci sono altre notizie importanti che dobbiamo dare, meno 0,59%, il DAX di Francoforte lascia sul parterre l'1,13% e il Futsi 100 lo 0,34% e allora come vedete ovviamente le borse attendono la decisione della Banca Centrale Europea, ma abbiamo la decisione, oggi è una giornata importante sul fronte delle banche centrali, della Banca Centrale Inglese, della Bank of England che ha alzato di 50 punti base il tasso di riferimento al 3,5%, questo è il massimo dall'ottobre 2008, sappiamo molto bene quanto l'inflazione in Gran Bretagna sia elevata, è elevata ovunque ma ha raggiunto l'11% in Gran Bretagna e quindi la Bank of England che è stata la prima banca centrale a procedere con il rialzo dei tassi prosegue in questo modo, 50 punti base, nonostante, anche questo perché si valuterà poi anche analizzando la decisione della Banca Centrale Europea, nonostante la recessione in Gran Bretagna sia vicina, comunque l'economia sia in forte rallentamento, però ha rialzato di nuovo i tassi ma rallentando anche rispetto ai rialzi precedenti. Che cosa farà quindi la Banca Centrale Europea alle 2,15? Alle 14,15 avremo la comunicazione del dato e poi naturalmente la conferenza stampa di Christine Lagarde che seguiremo, 75,50, questi sono naturalmente i due numeri di riferimento, in sovrimpressione abbiamo voluto mettere genericamente, la Banca Centrale Europea valuta una frenata nella stretta, cioè se anche la Banca Centrale Europea nonostante l'inflazione sia ancora oltre il 10% in qualche modo seguirà il percorso delle altre banche centrali. Peraltro prima di salutare il mio primo ospite, anche dalla Svizzera è arrivata la terza stretta monetaria con i tassi che salgono all'1% e anche dalla Norvegia. Banca Centrale alza i tassi al 2,75% con l'avviso che questo inaspiramento continuerà. Allora saluto Enrico Gei, Enrico buongiorno, ben trovato. Manuela buongiorno, ben trovato a te, grazie dell'invito, un saluto alla redazione e agli ascoltatori. E allora naturalmente ricordiamo anche che siamo in diretta a parte sullefonti.tv, su tutti i nostri canali social a partire da YouTube e anche su Facebook, potete scriverci sul nostro numero di WhatsApp e sulle nostre live chat al plurale. Con Enrico staremo insieme fino alla comunicazione del dato e allora domanda che faccio come sempre all'inizio della trasmissione 75-50, tu dove ti posizioni? 50 sembra che sia il dato più gettonato, ci dovrebbe essere questo tentativo di frenata, ma comunque il sito della BCE e le varie dichiarazioni sono chiare, gli aumenti dei tassi proseguiranno. Il famoso obiettivo del 2% rimane quello, per chi va a curiosare sul sito, ma è lontanissimo. Miss Lagarde ha dichiarato che quello che sappiamo tutti è che l'inflazione rimarrà anche nel 2023 ben al di sopra del 2%, con conseguenze negative per imprese, famiglie, per il mercato azionario probabilmente, da quando sono iniziati gli aumenti dei tassi da inizio anno tutti gli indici sono scesi, quindi è la solita vecchia storia ciclica dei mercati, non cambia nulla ed è anche interessante vedere come la BCE intenda rendere meno interessante anche il riefinanziamento delle banche, aumentando i tassi anche per loro, quindi c'è proprio il tentativo di tenere bassa l'inflazione a tutti i livelli, di non far circolare troppo denaro. Insomma, le borse ovviamente stanno attendendo in questo momento, credo, il dato della BCE, il tasso ovviamente di riferimento. Abbiamo visto la Bank of England che ha alzato nuovamente, ma questo era abbastanza scontato, perché poi nessuna banca centrale in questo momento ci sta dicendo, a partire dalla Fed, la Bank of England, la stessa BCE che interromperà appunto il rialzo dei tassi. Però, dicevo, le borse attendendo la BCE stanno performando in territorio negativo, ma in realtà la giornata è iniziata già negativa anche dopo la decisione della Fed. In che senso? Powell ha deciso di rallentare un po', però ha avvertito sul fatto che siamo ben lontani, quello che dicevi tu fondamentalmente Enrico, che siamo ben lontani da uno stop di questa politica monetaria restrittiva. Quindi le borse continuano a avere paura. Le borse hanno paura perché Powell è stato costretto a proseguire con un atteggiamento da falco. Le borse hanno paura perché quando tu hai un'inflazione che in alcuni posti al 9, in Gran Bretagna all'11 e dici che la vuoi portare al 2, sappiamo tutti che devi per forza proseguire con l'aumento dei tassi. Poi l'inflazione potrà scendere se si fermeranno, speriamo presto, alcune tensioni e così via, ma non scenderà da sola dall'11 al 2. Certo. Questo è quello che è. E onestamente non sono neanche sorpresissimo dal fatto che le borse, pur attendendo il dato, solitamente quando sei in attesa di un'uscita dei dati, le borse tendono a galleggiare sulla parità. Viceversa, ormai credo che abbiano capito già da quello che ha detto Powell che la stessa cosa dovrà. Quello che succederà, certo. Sì, abbiamo visto proprio un Fed e BCE parallele semplicemente con la Fed davanti di sei mesi. Da quando iniziò il QE tutte le mosse poi conseguenti proprio paritaria. Ecco, ma infatti, allora, intanto bisogna vedere appunto 50-75, tra poco mancano tre minuti alla pubblicazione del tasso, insomma, lo sapremo. Sì, aspettiamo tutti di capire anche la tabella di marcia su altre questioni che la Banca Centrale Europea, che è Christine Lagarde, idealmente oggi e probabilmente durante la conferenza stampa andrà a riferire. Soprattutto il processo con cui inizierà a disfarsi già dall'anno prossimo, quindi ci siamo dal 2023 dei 5 mila miliardi di euro di bond comprati negli ultimi otto anni, quindi con il quantitative tightening di cui abbiamo parlato più volte, il contrario del quantitative easing, insomma. E quindi questo, non so, te lo chiedo in realtà Enrico, questo forse preoccupa ulteriormente? Sì, la riduzione di bilancio è il vero tema, è il cuore, il focus di quello che è il lavorio, chiamiamolo così, di oggi della BCE. Come si andrà a ridurre questo bilancio sarà un qualcosa di curioso da vedere. Rendiamoci conto che comunque, parliamo adesso del nostro paese, dall'anno prossimo la BCE non ci aiuta più. Questo dobbiamo metterci bene in testa. Mentre per la Gran Bretagna che ha portato i tassi, come avrei visto, al 3,5, la situazione secondo me è la peggiore perché hanno messo in atto una serie di distanziamenti che da un lato contrastano con l'aumento dei tassi, quindi loro sono veramente sul crinale. Il discorso vecchio della Brexit, della quale non si parla più, li ha veramente messi secondo me molto in difficoltà. Per fortuna la trassa è stata molto veloce ad apparire e sparire. Eh sì, l'abbiamo praticamente vista giusto passare. Sì, sì, sì. La trassa è andata a spas molto velocemente per loro fortuna. Il discorso è che per chi ci segue, molti ovviamente ci seguono in virtù di cercare di interpretare i mercati azionari e così via, dobbiamo renderci conto che non ci sono stati crolli, ma c'è un lento ma ancora inesorabile trend ribassista partito proprio da inizio anno. E purtroppo dobbiamo ripetere quello che abbiamo detto statisticamente, il 2008-2021, 13 anni di salita. 13 anni di salita perché tassi bassi, tanti soldi in giro e quindi il soldo andava sull'azionario. Adesso tassi che salgono, tassi che sono più alti dei dividendi erogati dai titoli azionari e quindi perché rischiare con un titolo azionario quando lo stesso importo del dividendo me lo dà il Treasury o il BTP o il Bund o il bonus. Ecco Enrico, 2,50 quindi è alzato dei 50 punti base, esatto, adesso vedremo anche la notizia in sovrimpressione, insomma non ci sono sorprese quindi rispetto al rialzo di tassi che è di 50 punti. E quindi insomma in qualche modo l'ABC è quello che dicevamo prima, ripartiamo da lì, poi ti faccio continuare nel tuo ragionamento. Segue un po' le decisioni di tutte le banche centrali, allora è un po' una via di mezzo, diciamo che probabilmente si è trovato un equilibrio tra Falchi e Colombe perché nessuno ovviamente parlava di uno stop nel rialzo dei tassi, di questo appunto, poi in Europa siamo ancora oltre il 10% di inflazione mentre in America comunque è scesa al 7% quindi è perché è partito prima questo ITER, però diciamo che forse si è trovato un equilibrio soprattutto per l'ultimo mese dell'anno, il controllo dell'inflazione però cominciando un po' a capire come fare anche a evitare la recessione perché per l'Europa si parla anche di sempre più probabili recessioni, in realtà è da un po' che se ne parla. Sì se ne parla perché quello che stupisce in generale è che anche in America non c'è, anzi soprattutto lì non c'è una disoccupazione alta e nonostante questo, questo aumento di tassi potrebbe, diciamo lì hanno una situazione buona per l'occupazione che può solo peggiorare e vorrei notare come non appena è uscito il dato che quindi è un dato positivo nel senso che non è andata male, non hanno fatto 0,75 però i mercati sono anche se di pochissimi leggermente sì, 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 perché noi siamo a meno 1,13, ah 1,13 adesso hai ragione, meno 1,13 sì. E quindi ecco in teoria noi potevamo pensare se fanno 0,50 è quello che ci si aspettava potremmo rimbalzare, abbiamo invece paura di uno 0,75 perché potrebbe farci fare un meno 2, invece nonostante un 0,50 non solo non si rimbalza ma c'è una leggerissima flessione quindi io credo che i mercati non dessero importanza tanto al dato perché sanno quello che è il percorso da fare. Certo, Enrico leggiamo solo in un flash prima di salutarti il comunicato, almeno la prima parte poi dopo andremo avanti a leggerlo successivamente, allora il consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 50 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE, questo lo sappiamo, sulla scorta della consistente revisione al rialzo delle prospettive di inflazione prevede ulteriori incrementi, in particolare il consiglio ritiene che i tassi di interesse debbano ancora aumentare, ecco qui lo stesso avviso che ha dato Powell praticamente, in misura significativa a un ritmo costante per raggiungere livelli sufficientemente restrittivi da assicurare un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, questo medio termine continua a comparire nei comunicati, ma qui insomma almeno io ci vedo un po' una coppia carbone di quello che ha detto Powell appunto. Assolutamente, peraltro il medio termine per noi che facciamo trading è un medio termine di qualche mese, in economia il medio termine si intende 3-5 anni. E' appunto, quindi figuriamoci, figuriamoci. Secondo i dettami dell'economia, quindi insomma armiamoci di pazienza, spalle al muro come si può dire. Sì, e poi mantenere i tassi di interesse su livelli restrittivi farà diminuire nel corso del tempo l'inflazione frenando la domanda e inoltre metterà al riparo dal rischio di un persistente incremento delle aspettative di inflazione. Anche in futuro le decisioni sui tassi di riferimento saranno guidate dai dati, chiaramente il monitoraggio dei dati macroeconomici e rifletteranno un approccio in base al quale tali decisioni vengono definite di volta in volta a ogni riunione. Sto guardando se c'è qualche riferimento, poi ripeto lo leggiamo anche più dettagliatamente. Ecco qua, guarda quello che dicevamo anche prima. A partire dagli inizi di marzo 2023 il portafoglio del programma di acquisto di attività sarà ridotto a un ritmo misurato e prevedibile in quanto l'eurosistema reinvestirà solo in parte il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di euro al mese sino alla fine del secondo trimestre del 2023 e verrà poi determinato nel corso del tempo. Ecco, alla riunione di febbraio il consiglio direttivo comunicherà i dettagli dei parametri per la riduzione delle consistenze del programma di acquisto di attività. Anche questo, insomma, lo dicevamo prima, era una notizia attesa. Sì, si tengono le mani libere. Stanno tutti pregando che termini la guerra. Questo è il discorso. Da quel momento potranno scalare un po' la marcia. E quindi siccome non sappiamo, insomma, ieri abbiamo visto le dichiarazioni da parte della Russia per cui si esclude un cessato il fuoco anche per il periodo di Natale. È ragione per cui chi ha un debito pubblico alto e come noi è in una pessima situazione perché ovviamente per attirare capitali stranieri devi promettere interessi alti. e vendere l'Italia non è facile. È più facile vendere la Germania da più affidamento. Meno 1,24. E infatti ti volevo, guarda Enrico, tengo ancora qualche minuto perché ricordiamo che Christine Lagarde inizierà la conferenza stampa alle 14.45. Quindi abbiamo ancora un po' di tempo anche per leggere altri punti del comunicato. Appunto il mercato come lo vedi adesso? Poi andiamo a vedere anche l'euro-dollaro magari tra un istante. Allora, il mercato lo vedo molto volatile perché è divertente vedere i grafici su time frame a un minuto durante le conferenze perché basta che si dica ma o però vediamo i grafici muoversi in maniera erratica come se fossero degli elettrocardiogrammi. Sì. Detto questo l'Eurostox è sceso, UK100 quindi l'indice inglese è sceso. È un'unica grande marea. Il tra virgolette bello di questa situazione è che il mercato è un'unica grande onda e quindi sostanzialmente con un minimo di buon senso riesci orientando la vela a navigare fra queste onde. L'euro... Sì, le volevo vedere l'euro-dollaro infatti. Aspetta che vado a prenderlo. Eccolo qui. Beh, adesso sta perdendo un po'. Siamo a 1.0644. Sì, però negli ultimi 5 minuti, se tu metti un time frame a 5 minuti vedi delle candele sparate al rialzo. Ora lo mettiamo subito, adesso io non so se però mi viene così il grafico a 5 minuti, per novedi 5 minuti. Così, rimettiamolo daily che comunque lo andiamo a vedere. Sì, diciamo che comunque dal momento dell'uscita dei dati l'euro-dollaro era a 1.0616, adesso è a 1.0640. Esatto, esatto. Quindi, nonostante un aumento dei tassi non maggiore del previsto, l'euro si è rafforzato molto. Quindi il dato 0.50-0.75 ben poco importava, ma quello che tu hai letto probabilmente è molto più importante. Ci sono riduzioni di massa monetaria in circolo. Se ci sono meno euro, domanda della legge delle domande e offerta, se c'è meno quantità di una cosa, quella cosa vale di più. Esatto, appunto. Quindi il rendere meno interessante il rifinanziamento delle banche vuol dire, io cara banca, se tu chiedi a me BCE soldi in prestito, io te li faccio pagare di più. Certo, certo, perché stampo meno fondamentalmente. Ti stimolo a non chiedere prestiti, quindi a far circolare meno euro e se ce ne sono meno costano più. Allora, dopo andiamo anche a vedere un attimino cosa ne pensi del rischio recessione. Continuiamo però a leggere anche questa parte che invece si concentra essenzialmente sull'inflazione, anche se poi il comunicato inizia proprio motivando la decisione, chiaramente, ma questo lo sappiamo, insomma non serviva il comunicato, la decisione di rialzare i tassi di interesse proprio per l'inflazione. Allora, l'inflazione continua a essere troppo elevata, secondo le proiezioni si manterrebbe su un livello superiore all'obiettivo per un periodo di tempo troppo prolungato. Secondo la stima rapida dell'Eurostat l'inflazione si è collocata al 10% a novembre, lievemente inferiore rispetto al 10,6 di ottobre. Questo calo è riconducibile principalmente all'andamento più moderato della componente energetica, sì, ma proprio di un filo però. L'inflazione dei beni alimentari e le pressioni di fondo sui prezzi in tutta l'economia si sono rafforzate e si protrarranno per qualche tempo. Poi vediamo un po' le proiezioni sull'inflazione. Gli esperti dell'eurosistema si porterebbe in media sull'8,4 nel 2022 per poi scendere al 6,3% nel 2023. L'inflazione dovrebbe registrare, quindi in teoria il prossimo dato sull'inflazione dovrebbe riportare questa discesa evidente, cioè 8,4% perché l'ultimo dato del 2022 fondamentalmente. Poi vedete che però per tornare, quello che diceva prima Enrico, il medio termine nell'economia sono 4-5 anni, per tornare, qui lo danno un po' meno, però al 2%, intorno al 2% dobbiamo aspettare il 2025 Enrico. Quindi insomma per tornare ai livelli normali di inflazione dobbiamo aspettare ancora un po'. Beh abbiamo detto che il medio termine è 3-5 anni, loro indicano 3 perché se indicassero 5 sarebbe qualcosa di molto preoccupante, ma non possiamo escludere che siano 5. Non lo possiamo assolutamente escludere, perché? Perché se poi dovesse ricominciare a tirare l'economia potrebbe rimanere alta l'inflazione, ma lì torniamo a un discorso di inflazione virtuosa, inflazione buona, inflazione causata dall'aumento della domanda, l'abbiamo detto tante volte. Noi in questo momento non abbiamo un aumento di domanda, abbiamo una diminuzione di offerta, quello ha portato i prezzi a salire, nel frattempo noi facciamo almeno 1,40, il future per Nasdaq da 11,6 è sceso a 11,5,80, quindi è peggiorato ancora, c'è una brutta aria. C'è una brutta aria, sì. Allora, chi aveva in qualche modo intravisto una boccata d'ossigeno in questa ultima parte dell'anno adesso forse deve ancora ricredersi, ma in realtà lo abbiamo detto più volte, insomma, senza aver la pretesa sempre di centrare le considerazioni, però che il ciclo continuava a essere quello, insomma, il ribassista del mercato, poi aveva avuto un attimo di risalita, ma insomma, qui siamo. Allora, un'ultima domanda rispetto, guarda, che comunque corrisponde anche all'ultima parte del comunicato, rispetto alla tua sensazione per l'anno prossimo, cioè più sull'economia reale, recessione sì, recessione no, leggiamo che cosa viene evidenziato nell'attuale, nel prossimo trimestre, l'economia dell'area dell'euro, quindi primo trimestre del 2023, potrebbe subire una contrazione dovuta alla crisi energetica, all'elevata incertezza, insomma, al tema della guerra, ovvio che se dovesse terminare il conflitto ci sarebbe un attimino più una valutazione ottimistica, elevata incertezza, indebolimento dell'attività economica mondiale, le condizioni di finanziamento più restrittive. In base alle ultime proiezioni degli esperti, una recessione sarebbe relativamente, guarda qua, breve e poco profonda, al prossimo anno tuttavia la crescita sarebbe contenuta ed è stata rivista a ribasso rispetto alle proiezioni precedenti. Questo l'avevamo già messo in conto, però ci stanno dicendo Enrico che, allora, crescita contenuta, ovviamente le stime che avevamo fino a qualche tempo fa dobbiamo dimenticarcele e poi potrebbe arrivare questa recessione, ma potrebbe essere, come dire, un flash, una sorta di toccata e fuga. Cosa ne pensi? Mi viene da ridere. Eh, un po' strano, infatti. Mi viene da ridere perché noi siamo in una situazione nella quale abbiamo avuto un debito pubblico che è cresciuto ogni anno, nonostante avessimo tassi di interesse a zero, ossia era il momento migliore per abbassare il debito pubblico perché tu emettevi titoli di Stato che comunque la BCE ti comprava per finanziarti, per darti soldi, in parole povere, e su questi titoli di Stato tu non pagavi sostanzialmente interessi perché li emettevi con tassi bassissimi. Adesso che tassi salgono, cioè avevamo l'occasione e non è stata sfruttata. Per questo Draghi diceva, ok, io vi presto i soldi, non vi faccio pagare interessi, fate le riforme. Ovviamente noi cambiamo governo ogni tre quarti d'ora, quindi le riforme non vengono fatte. Infatti a me dispiace quando tutti dicono, ah, la Merkel è una, e va bene, l'hanno presa in giro in tutti i modi. La signora Merkel è stata a 18 anni e loro le riforme le hanno fatte. Noi se avessimo un premier che dura 18 anni penso che insomma sia un sogno, no? Sì, 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 sì. Nel frattempo meno 1,60, il nostro... Ecco, vediamo, sì che esatto. Beh, vedo che anche gli altri indici insomma lo seguono un po' a ruota, meno 1,62, non so chi segue chi, ma insomma vedo che... Dobbiamo renderci conto che adesso la BCE non ci sosterrà più perché non lo può fare. Eh, appunto, appunto. E metteremo titoli di Stato per attirare investitori istituzionali esteri e su questi adesso dovremmo cominciare a pagare interessi alti. Quindi il debito pubblico non è sceso quando non pagavamo interessi per cui che si vada di fronte a una recessione... Cioè non andremo di fronte alle cavallette che ci invadono perché l'Italia ha un risparmio privato fortissimo e la gente va in vacanza. Però chi non va in vacanza avrà difficoltà più ampie rispetto al solo non andare in vacanza. Questo è quello che mi preoccupa. Certo. Va bene. Allora Enrico, grazie mille per aver aperto questa trasmissione con me. Noi continuiamo naturalmente con la BCE. Buon lavoro Enrico Jay, scatta col trend. Vi aspetta per eventuali considerazioni anche sui mercati in generale. Grazie. Manuela, grazie a te dell'invito. Buon lavoro. Un saluto alla redazione di ascoltatori. Buon trading a tutti. Grazie, grazie ancora Enrico Jay. Allora, tra poco, adesso noi andiamo in pubblicità, tra poco ci raggiungerà un altro ospite e continueremo a fare un po' di valutazioni in attesa proprio dell'arrivo di Christine Lagarde e della conferenza stampa. E sarà interessante perché come abbiamo visto non ci sono state sorprese sul discorso del rialzo dei tassi. Però, credo, almeno dal comunicato, la cosa che balza più all'occhio è quello di aver rimarcato come l'inflazione così alta ovviamente non ci abbandonerà tanto presto. Lo sapevamo già, sì, però credo che sia stato messo nero su bianco in modo molto molto netto. Tra pochi minuti torniamo. Voi restate con noi e scriveteci se avete voglia di chiedere qualcosa ai nostri ospiti. Grazie a tutti.